in studio l'onorevole Luciano Nobili di Italia Viva, ben trovato, lei il divano è in collegamento con noi l'onorevole Giorgio Moulet, sottosegretario alla difesa, Forza Italia ben trovato, onorevole Moulet mi mancava il comodissimo divano di Tagadà infatti dovrebbe sedersi dall'altra parte, ha sbagliato pure la posizione e quello così è dovrebbe arrivare anche il segretario del partito